Io nella mia tour ho registrato una vera e propria richiesta di sicurezza e di tranquillità da parte dei cittadini fanesi che chiedono una città più sicura. Per fare questo ho pensato a intanto garantire una pattuglia notturna dei vigili urbani che possa dare supporto alle forze dell'ordine per evitare la rapina e i furti. Secondo una attività tecnologica che riguarda l'arrivazione delle targhe per prevenire i furti nelle case, poi la collaborazione con le associazioni combattentistiche per fare un controllo del territorio anche grazie alle associazioni di volontariato. Ed inoltre prendendo spunto dalla conferenza stampa dell'altro giorno del ministro dell'interno Alfano su Roma città sicura dove è stata proposta per combattere lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole che è un gravissimo problema che purtroppo accade anche a Fano e per combattere la prostituzione minorile è stato lanciato un numero dove si possono mandare gli sms per denunciare in modo anonimo da parte dei giovani stessi mentre appunto avvengono fatti criminali tipo lo spaccio davanti alle scuole o rischi di prostituzione minorile. Questo servizio che la Polizia di Stato insieme al Ministero ha attivato potrebbe essere utilizzato anche a Fano. Questa mattina ne ho parlato con il ministro dell'interno e gli ho chiesto se è possibile fare di Fano un progetto pilota che si chiamerà appunto Fano città sicura in cui verrà messa a disposizione una nuova collaborazione tecnologica in cui tutti quanti chi vorrà potrà denunciare fatti criminali di questo genere e che serva soprattutto per rendere più sicure anche le nostre scuole.